Stai trascinando questa Triestina, ormai guardate la classifica dall'alto, che partita è stata oggi? Sicuramente una partita difficile perché venivamo da una settimana con tre partite attaccate e sotto l'aspetto sia nervoso che fisico avevamo sprecato tantissime energie però quando sei in testa sicuramente hai qualcosa in più dentro oggi la Triestina pur non disputando una gara eccezionale sotto l'aspetto del gioco ha fatto una gara di voglia, di intensità e ha dimostrato che può stare là davanti ce la possiamo giocare con tutti, questa è la cosa più importante Il mister ti ha spostato là davanti togliendo figli, da là un po' è cambiata la partita perché proprio da là poi si è inserito Cia per arrivare anche al gol in parecchie occasioni la Triestina vince anche dalla panchina questo vuol dire che il gruppo è voglioso anche in panchina Sì, ci sono tanti ragazzi bravi, giovani che vanno inseriti piano piano il mister è stato bravo ad inserirli e quindi credo che sia importante questo qui che anche chi sta fuori ha la voglia di gioire, di vincere e di seguire la squadra tutti insieme questa è la cosa più importante, che anche chi sta fuori sia trascinato da chi è dentro e quindi quando entra di poter fare il massimo Lo stadio sta rispondendo alla grande, vi ha tirato fino alla fine anche oggi Questa è la cosa più importante, in questo momento rimanere uniti tutti, noi giocatori, la stampa, la gente tutto quello che ci circonda, questa è la cosa determinante per essere un gruppo vincente e credo che ci sia bisogno di questo qui che anche nei momenti difficili bisogna stare tutti uniti e rimare tutti dalla stessa parte se vogliamo fare qualcosa di importante Grazie a tutti